Annuncio rivolto solo alle ragazze, quindi astenersi uomini, gay, trans, transoperati, vecchie, imbecilli, curiosi e perditempo. Fatemi tornare a realtà con il signor Peppe Fetish, con il messaggio di ieri dal signor Peppe Fetish. Salve, sono il famosissimo Peppe Fetish. Lecco e odoro i piedi alle ragazze. Mi piacciono le piante dei piedi larghe, sporche, annerite, arricciate, rugose, puzzolenti, coi duroni, i talloni screpolati, lo smalto consumato, le calze color carne scassate e tenute dentro le scarpe con il tacco tutta la serata. Pago 30 euro se mi fanno leccare, 20 euro se invece me li fanno soltanto odorare. Se siete interessati seriamente, contattatemi in privato. Annuncio rivolto solo alle ragazze. Quindi, astenersi uomini, gay, trans, transoperati, vecchie, imbecilli, curiosi e perditempo. No, ma io ero curioso soprattutto dell'elecco. Non riesco a starci dietro, volevo appuntare. Me lo rimetti un attimo per favore? Cioè, rimettimi tutto quanto. Salve, sono il famosissimo Peppe Fetish. Lecco e odoro i piedi alle ragazze. Mi piacciono le piante dei piedi larghe, sporche, annerite, arricciate, rugose, puzzolenti, coi duroni, I talloni screpolati, lo smalto consumato, le calze color carne scassate e tenute dentro le scarpe con il tappo tutta la serata. Mi sono perso. Pago 30 euro. Mi riprendi da là a un certo punto dopo talloni screpolati. Dopo talloni screpolati. Riprendimi un attimo da là. Talloni screpolati, ti prego. Ti prego, regia. Roberto, dai. Vai, riprendimi da là l'elenco, vai. Carne scassate e tenute dentro le scarpe con il tappo. No, prima, 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 prima. I talloni screpolati, lo smalto consumato, le calze color carne scassate e tenute dentro le scarpe con il tappo tutta la serata. Pago 30 euro. No, volevo segnare per vedere cosa piace a me invece. Cosa piace a me dei piedi, come dire, se c'è qualche similitudine nei miei gusti. Devo dire che 3-4 cose sì, d'accordo, ma solo 3-4. Su questo lungo elenco, lungo elenco. Larghi, per esempio, no. Sporchi sì, ma larghi no. Giorgio da Roma, Giorgio, vai, dimmi. Dimmi, Giorgio. Giorgio da Roma? Giorgio, dimmi. Giorgio.